Dolci super tranquilli bentornati Così da riuscire a comprendere Sfruttarla l'acqua e di come valorizzarla, di come valorizzarla al meglio Dai fino a un certo punto è andata bene E proviamoci Dove li agganci? Dolci super tranquilli bentornati Siamo nella serra nel nuovo posizionamento In cui ci stiamo dedicando alla coltivazione del pomodoro E nella fattispecie se andiamo a vedere il nome di alcune varietà Possiamo leggere Umbria Un codice linguistico che significa molte cose Che ora vediamo insieme Che cosa significa dunque questo Umbria? Che cosa significa Umbria? Che dal 30 di giugno al 2 di luglio Ci sarà l'evento, il terzo evento Del percorso in agricolture evolutive In cui porteremo avanti ciò che abbiamo fatto nei due incontri precedenti Ad esempio questi pomodori Umbria risalgono al primo incontro In cui li abbiamo portati dalle semine che avevamo fatto nella serra qui in Maremma Li abbiamo rinvasati assieme ai partecipanti dell'evento Parte di questi pomodori poi li abbiamo trapiantati al secondo evento E poi sono ritornati magicamente qui perché erano così belli che abbiamo detto qualcuno Anche perché erano così tanti Tanti E ci è venuto a trovare uno capano Vuole partecipare anche lui al terzo incontro dell'agricoltura evolutiva Lui non lo faremo partecipare Ma se qualcuno di voi vuole partecipare Nella descrizione di questo video ci sono tutti i riferimenti Per poter prenotarsi e iscriversi E le informazioni e tutte cose Tutte cose Ma prima che arrivassi il tafano, il rompere Stavo pensando al fatto che questi pomodori li abbiamo riportati Anche perché erano talmente tanti Erano tanti Quelle che abbiamo prodotto Che abbiamo riempito l'orto da Ivan Abbiamo riempito la serra E ci siamo messi pure a rinvasare i nuovi pomodori Che abbiamo seminato lì in loco al primo incontro Quindi queste piante rischiamole di andare da male Anche perché non solo le abbiamo messe nell'orto Le abbiamo messe nella serra Ne abbiamo seminate altri Ma anche i partecipanti dello scorso evento Ne hanno portati con loro diversi vasetti Diversi vasetti di piantine Diversi semi Tutto quello che abbiamo potuto condividere L'abbiamo condiviso Ma c'era ancora dell'esubero E quindi eccoli qui Che stanno ora trovando Secondo questa tecnica Molto sofisticata del cordone Una posizione solida Una posizione definitiva Con l'idea di farli poi crescere Fino a creare possibilmente un arco Generando un vero e proprio tunnel pomodorifero Qui abbiamo La fiancata dei peperoni Che sono poi i fratelli di quelli che abbiamo messo nel cassone in Umbria Sì La fuori i peperoncini Peperoncini Un po' di melanzane Il mezzo E anche quelli sono tutti fratelli Sì Rispetto alle varietà che abbiamo portato in Umbria E quindi a questo punto Questo era il succo dell'aggiornamento Se avrete voglia di vederci in Umbria Noi saremo lì Ripetiamo quando? Dal 30 di giugno al 2 di luglio E da quello che ci dicono dalla regia Ci sono ancora 4 o 5 posti liberi Sì Di conseguenza Siete benvenuti E che cosa abbiamo fatto negli incontri precedenti E cosa faremo in questo terzo incontro in Umbria? Per dovere della cronaca possiamo dire che Nel primo incontro ci siamo concentrati Sull'aspetto dei semi Facendo un focus sulla salvaguardia dei semi Su come si prepara il semenzaio Su come si gestiscono le semine I ripicchettamenti I rinvasi Nonché la costruzione della serra Ancora prima di tutto questo Nel secondo evento ci siamo concentrati sui trapianti in orto E ancora prima sulla lavorazione del suolo Quindi sulla preparazione della coltivazione vera e propria Facendo un focus appunto sul suolo Sulla fertilità Sui processi di rigenerazione E su come poter rigenerare il terreno Man mano che lo si coltiva Facendo un focus specifico sugli incastri Delle successioni delle colture Durante tutto l'anno Anzi durante tutti i due anni Perché abbiamo presentato il ciclo biennale Dei tre pattern più magese E arrivati a questo terzo incontro Che cosa faremo? Che cosa faremo? Parleremo di irrigazione Di irrigazione Ma soprattutto la faremo La faremo nella teoria e nella pratica Nella teoria e nella pratica Soprattutto nella pratica Realizzeremo un impianto di irrigazione a goccia Su tutto l'orto precedentemente realizzato E se il tempo lo permetterà Realizzeremo un altro terrazzamento di nuovo orto Con tanto di irrigazione Quindi per chi non ha avuto la possibilità di partecipare ai primi due incontri In questo terzo incontro ci sarà comunque Una sorta di riepilogo Di tutta la pratica che si è fatta nei primi due Quindi semine Minime lavorazioni Ammendamenti Vivaio Ripicchettamenti Il suolo Abbiamo parlato molto del suolo anche in generale Tanto suolo Nella descrizione del video c'è anche un link al programma intero In cui si può approfondire sia quello che sarà il terzo evento Ma in cui si può comprendere in senso più ampio Ciò che si va a fare in tutto il percorso Anche nelle date successive In tal senso possiamo concludere qui questo aggiornamento Ringraziandovi per la vostra presenza fino a questo momento E se vorrete partecipare all'evento In questo caso di fine giugno e inizio luglio Ci farà piacere incontrarvi e passare qualche giorno insieme Per adesso è tutto Tanti bacetti Vi vogliamo bene Buonattimo presente Grazie a tutti Grazie a tutti